Ciao amici di TeletroGames Un matchmaking molto umano Questa sera mi ha messo contro il numero 2000 Al mondo La vedo dura La vedo tanto dura Speriamo che siano pochi punti Di perdita Allora, eccolo qui, David Lo voglio provare, certo il debutto Più difficile di così E' difficile trovarlo Però ci proviamo Il resto lasciamo tutto come sta Ecco l'avversario Calafiori, Guardiol Van Dijk, Lidixson Vicario, Costa Curta, Zeroberto Mamma mia Mamma mia E vabbè Ragazzi ci dobbiamo provare Che non scendiamo in campo Proviamo Conto il numero 2000 al mondo Le dura, le dura, le dura Sembra portoghese il ragazzo Così Non è detto Però Usando lo Sporting Braga Dico Ci sono pochissimi Divisione 1 Divisione 2 Ce ne sono tanti A me Mi fai a pescare Questo giocatore Il numero 2000 Va bene Proviamoci Proviamoci Vediamo che succede Non mi metto a fare le barricate Che già sono Ho uno schema difensivo Nel caso di mettere la bocchetta A calbasso Perché Perderei Sicuramente Tutti con caloncini bianchi Vabbè Vediamo che succede Davvero una splendida serata Un clima perfetto Per giocare a calcio Un clima che si riflette Anche sull'atmosfera Sulle tribune I tifosi festanti E gioiosi Infatti Sono arrivati in massa Che atmosfera Roboante Amici E' il clima ideale Per i giocatori Con personalità Che David Villa Va bene Il portiere ha risposto presente Quando c'era bisogno di lui Guadagnano un tiro Dalla bandierina Il primo Assoluto Del match Ripartono all'attacco Direttamente Dalla propria area Attaccare con troppa foga A volte Può condurre Dal fuorigioco Non l'avevo visto Non l'avevo visto Bello libero Lì Provo a giocarla In profondità Roberto Baggio Che anticipo Sembra quasi prevedere il futuro Il passaggio forse era un po' telefonato Ma resta l'ottimo posizionamento difensivo Se Roberto Ha preferito andare sul sicuro Hanno già riconquistato palla Provano a orchestrare il contropiede Prova con una palla filtrante Buono Bel debutto Era solo questione di tempo Primo gol per lui Bel debutto Ma è lunghissimo Ragazzi Hanno trasformato una situazione difensiva In un contropiede In pochissimi secondi Veramente un'ottima giocata E la partita inizia la grande Subito gol Ha portato scompiglio Ma la difesa Riusciva comunque a neutralizzarlo Intercetta il pallone Dopo una lettura magistrale Giocata difensiva Di grande spessore Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziati E così siamo evidentemente sull'1-0 Una bella giocata nello spazio La mette sul piano fisico E riconquista la palla Verón Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti Via Ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone Ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione Cerca la traccia in profondità Prova a superare la difesa con un filtrante C'è la palla lunga in avanti Bell'anticipo Ora possono ripartire Dixon Sceglie di andare per vie verticali E conquistano il pallone e il pallino del gioco Zeroberto Ennisima palla recuperata Non impensierisce la difesa Va dato atto al lavoro magistrale della difesa Sta togliendo ritmo all'offensiva degli avversari Fa viaggiare il pallone in verticale Zeroberto Pallone lungo in verticale Una serie di passaggi puliti, efficaci Scusate se non parlo poco ragazzi Ma sto concentratissimo E lo maltratta addirittura Per recuperare la palla Però non c'è fallo Verone Palla in avanti Verso il compagno Costa curta Il pressing era troppo deciso Per pensare di giocarla Verso il compagno Fa avanzare l'azione Con il lancio lungo Ci mette una pezza Non perdono tempo A recuperare il pallone Roberto Baggio Che tenta la conclusione C'è Roberto Il risultato è di 1-0 Ma la squadra di svantaggio Ha raramente visto la porta avversaria Stanno gestendo la gara Deve dire Si palpa nell'aria L'arrivo della pausa In questi casi è fondamentale Andare a riposo mantenendo il vantaggio E hanno ottenuto un'altra rimessa laterale Messi La mette dentro il raso terra Palla del portiere Ha bloccato senza problemi David Villa Quanta classe Cerca una soluzione Con la palla lunga La gioca in avanti Con un filtrante Guardiola Zeroberto Stanno tenendo bene il pallone Un altro passaggio riuscito Ecco David Villa Detta lo scatto del compagno Con un filtrante Interrompe l'azione Unita 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 La partita è appena cominciata Però Io per il momento Non cambio niente Poi verso il sessantissimo Vediamo David 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 Chiamatelo come volete Ha fatto il suo dovere Benissimo Esce dal campo con l'unico gol della partita a referto In una gara tesa ma comunque emozionante Ancora tutto da decidere Si riparte per il secondo Si trovano a dover amministrare Un vantaggio di misura Torres Se Roberto Rovina la festa agli avversari Intercettando il pallone Passaggio filtrante per Fernando Torres Può colpire È un grande riflesso qui Mamma mia Scholes Vede la partenza del compagno E prova a servirlo Si sparazza dell'avversario David Villa Poteva sentire qualche compagno In quell'occasione Forse ha tenuto palla Un po' più del dovuto Prova a imbeccare Lo scatto sul fondo Oggi Non gli danno tregua La marcatura Aspissiante su questo giocatore Sta funzionando Anche se c'è inevitabilmente Il rischio di lasciare scoperti Altri spazi Che i suoi compagni Possono sfruttare Può liberare il tiro E evita ogni pericolo Per il momento Lungo passaggio in avanti Sembrava che stessero Per concretizzare Un'azione iniziata bene Dovranno riprovarci Ottima lettura Pericolo sventato Spazza il pallone Senza fronzoli L'Italia Ha messo dentro Quel pallone in più Ma non deve perdere La concentrazione Guarda tu Guarda tu La difesa si fa trovare pronta Questo gioco Dopo massi stessi di 29.000 950 spettatori Un altro passaggio Ben eseguito Buona costruzione Torres Bella quest'azione Devono continuare ad insistere A questo punto Sarebbe inutile essere prudenti Devono spingere Sono d'accordo con te No perché Perché La riprendono immediatamente Ecco Fernando Torres Roberto Pacio E la difesa dice di no Guardiola Spazza lontano Van de Ven Recupera nel possesso Del pallone Vede lo scatto E cerca la profondità Piglia Riconquista la sfera Senza tanti complimenti La situazione Si era davvero complicata Sono riusciti a metterci Una pezza L'allenatore Tira un sospiro di sollievo Ma in cuor suo Deve essere un po' Allarmato Per la facilità Con cui si sono fatti Sorprendere Il portiere allontano Il pericolo La spazza lontano Per evitare pericoli Non hanno perso tempo Per recuperare palla Ecco Fernando Torres Si stanno accentrando troppo Così non troveranno mai spazio Calafiori Ottima circolazione del pallone Ci prova con un pallone profondo E' vero che stanno sbagliando tanto Fabio Ma l'approccio è quello giusto Stanno cercando il gol Con caparvietà Allora Sono dentro la partita Dentro De Nilsson Dentro Salà E dentro Un battuto Dai ragazzi Dai So che non è facile E' ancora lunghissima Sostituimento Sostituimento Nel Bragge Nel Bragge Nel Bragge Entrame le squadre Hanno deciso Di aver guardato le sostituzioni va alla ricerca di un compagno davanti si assicura di non far correre rischi al portiere possibilità di tiro cerca il movimento di sé in profondità c'è Roberto Baggio palla filtrante per Cristiano Ronaldo qui cerca il tiro la scaglia il più lontano possibile mamma mia ragazzi costruiscono la manovra con sicurezza decide di allontanarla aziela per smarcarsi vince il duello e la fa sua Guardiola avanzano con una intricata rete di passaggi palla a cercare la profondità palla a Guti la mette in avanti non hanno tutto il tempo del mondo devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire via si ma ragazzi grazie David grazie a tutti un po' di punti li prenderemo da un divisione 1 e beh 57 1601 1601 dai bene 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 così ragazzi buona domenica ci vediamo domani mattina per l'aggiornamentino del lunedì ciao ciao